La breaking news di oggi sono io. Per chi mi segue su Instagram sa che ho avuto dei problemi in casa questo weekend, ma procediamo con ordine. Il motivo per cui faccio questo video è perché ci saranno alcune ripercussioni sul canale, nei video che usciano questa settimana, e quindi penso che sia corretto aggiornarvi. Praticamente venerdì alle due e mezzo avevo un meeting importante di lavoro che si è terminato nel migliore dei modi. Quindi vado in cucina per farmi un caffè alle tre e mezzo e trovo una posa d'acqua. All'inizio pensavo che si fosse spaccato un tubo tra il mio appartamento e quello della mia vicina che sta sopra, in realtà la situazione era peggiore. Ho chiamato i compieri, sono arrivati, sono intervenuti. Non vi sto a spiegare esattamente i dettagli e poi magari in futuro farò un video più dettagliato. Un tubo che si trova sul sottotetto di questo palazzo si è spaccato a causa del freddo. L'acqua, quando si ghiaccia, si dilata, si è spaccato, però poiché le temperature si sono innalzate sopra lo zero, il tappo di ghiaccio si è scongelato, facendo fuoriuscire tutta l'acqua. Che si è rivestata sull'appartamento che sta all'ultimo piano, quello sulla mia vicina e infine il mio. La fortuna è stata che io ero in casa, perché l'appartamento più in alto è vuoto. La mia vicina non era in casa, ma io sì. Quindi ho potuto chiamare i pompieri in maniera tempestiva, che fortunatamente sono esattamente a 100 metri da casa mia. E quindi il peggio è stato scongiurato. Infatti, come vedete, oggi è domenica, sono le nove e mezza di sera e sto facendo questo video. Però vi racconto brevemente il mio weekend. Venerdì, poiché l'acqua usciva letteralmente dai lampadari e soprattutto da quello che c'è in cucina e quello che c'è in salotto, ho dovuto semplicemente staccare tutto l'impianto elettrico, perché non era più sicuro. Quindi, venerdì sera, sono andato ospita da un mio amico, che ringrazio molto, e sabato mattina ho contattato la mia assicurazione, ovvero l'assicurazione sulla casa. Che fortunatamente ho, e infatti mi sta salvando il culo. Cosa è successo? L'assicurazione mi ha detto, va bene, non ti preoccupare, pensiamo tutto noi. Ti mandiamo qualcuno che controlla casa e questa persona verrà mercoledì. Ti mandiamo un elettricista, che è arrivato oggi, e ti troviamo questa emozione temporanea. E infatti, sabato sera, ovvero ieri sera, sono andato presso un hotel, che aveva i suoi disagi, però vabbè. Domenica mattina, cioè oggi, come vi dicevo, mi hanno mandato un elettricista. Quando sono entrato in casa, ho visto che l'intorno del tetto del salotto si era un po' deformato e staccato, però andava tutto bene. L'elettricista fa un paio di cose in casa, mi ha detto che l'elettricità va tutto bene, ad eccezione del lampadario del salotto. Lì te lo sto isolando, però alla fine hai l'acqua in casa, hai l'elettricità, puoi tornare a vivere se vuoi. Se non che appena lui chiude la porta, dopo dieci minuti, crolla metà dell'intonaco del salotto. In due parti. E io ero in casa. E quindi ho detto, vabbè, andiamo a pranzo. Mi aspettavo un mio amico per fare pranzo. Sono andato da questo mio amico, che poi successivamente mi ha aiutato a sistemare casa. E questo mio amico è Davide, che voi avete visto in questo video, che mi ha aiutato a fare le riprese per il video che uscirà questo mercoledì. Il video di mercoledì è stato girato in più riprese. E il montaggio è finito. Devo semplicemente fare delle piccole sistemazioni e mercoledì uscirà. Tuttavia, non posso garantire un video per venerdì. E quindi la mia decisione è stata quella di prendere il video di mercoledì e dividerelo in due parti. Quindi mercoledì uscirà la prima parte e venerdì uscirà la seconda parte. Sperando che, dalla settimana successiva, cioè quella dove c'è Natale, di riprendere con la programmazione di tutti i video che usciranno su questo canale. Ovviamente vi terò informati sui miei mezzi di comunicazione, non solo YouTube, ma anche Instagram. Quindi, qualora non mi seguiate, fatelo, perché ci saranno sicuramente degli aggiornamenti. Scusate se il setup è quello che è. Questo è uno di quei video raffazzonati, sicuramente non sarò presentabile, però sono molto stanco. E adesso penso che metterò questo video sul computer, farò quel po' di edit che devo fare e poi mi andrò a dormire. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione ai pinguini e ci vediamo alla prossima. Ciao!